Questo è il balletto di marzo! Pronti al balletto di marzo? No, non sono pronto! Bene, cominciamo! Ti ho detto che non sono pronto! Metti la mano sulla faccia! No, non ho fatto stretching! Ti ho detto metti la mano sulla faccia! Ma io non... Ho detto mettiti la mano sulla faccia! Metti la mano sulla faccia! Ai, mi sono fatto uno strappo muscolare! Dirti mille schiaffi! Evviva marzo!